Nel bilancio noi abbiamo previsto queste risorse per i droni che nascono come l'idea iniziale la lotta all'evasione, cioè la capacità di censire in modo puntuale tutte le attività in modo da sconfiggere l'evasione che come sapete anche c'è nella nostra città, ma chiaramente non utilizzeremo i droni solo per quello, anche per i controlli ambientali, per individuare subito discariche che si formano in alcuni luoghi della città, le speculazioni edilizie, la tutela quindi dei piani urbanistici, è uno strumento importante che quindi ci auguriamo che già da quest'anno potrà essere in funzione, i tempi tecnici per fare la gara e poi utilizzeremo anche i droni a difesa della città.